Rimane affossato il cantiere del polo natatorio riminese Acqua Arena, anzi affondato, senza sapere quando potrà riemergere. Dopo il fallimento dell'azienda di Reggio Emilia, capofila del raggruppamento di imprese che ha vinto l'appalto pubblico, l'ipotesi in campo rimane quella di interrompere il contratto e di indire un nuovo bando. Speculare sulla data di apertura della piscina rimane al momento una pratica azzardata. Intanto sul progetto è finita l'attenzione delle procure di Rimini e di Bologna, segnatamente sul bando che ha affidato i lavori di costruzione del polo. Al centro dell'indagine vi è l'amministratore di un'impresa riminese che ha svolto lo ruolo di consulente per gare d'appalto in diverse città, tra cui anche Rimini. La sua azienda si è anche impegnata nella costruzione del tecnopolo riminese, il centro di ricerca affidato agli studiosi dell'Università degli Studi di Bologna e inaugurato nel febbraio del 2017. Anche questa struttura è finita sotto la lente della magistratura. Diversi nomi che ora rischiano il processo. Le indagini dei PM si sono concluse con 18 persone nel registro degli indagati, ma questi potrebbero aumentare. Tra di loro troviamo tre funzionari del comune di Rimini, tra cui il dirigente Massimo Totti, oltre ad altri professionisti di realtà private. L'inchiesta delle Fiamme Gialle è partita due anni fa. Il complesso doveva essere completato nel 2015, ma il comune aveva chiesto una proroga alla regione, la quale lo aveva finanziato con 2,8 milioni di euro. I funzionari di Palazzo Grampi sono indagati per falso in atto pubblico. Per l'ingegnere Totti si ipotizza anche la truffa, mentre per altri la turbativa d'asta.